Barbara Cominelli, GLL. Allora, uno dei vostri lavori, sicuramente il focus è dare una visione innovativa per trasformare i luoghi e gli spazi con un'attenzione particolare alla sostenibilità. Allora sì, GLL è un'azienda che si occupa di immobiliare a 360 gradi, quindi dagli investimenti fino poi alla realizzazione e alla gestione degli spazi. Quindi diciamo per noi i nostri obiettivi di sostenibilità non sono solo interni, ma sono come possiamo aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e quindi come possiamo aiutare i clienti ad accelerare il proprio percorso. Per cui per far questo, oltre agli obiettivi che ci siamo dati internamente, quindi noi abbiamo un target net zero al 20-40, abbiamo un target importante anche in termini di diversity e di inclusion. Oggi per esempio in Italia siamo già al 50%, sia a livello totale che a livello di leadership team, a livello mondo siamo un po' più indietro perché siamo al 40, però l'obiettivo è arrivare veramente. Però ci vediamo come degli amplificatori, quindi il lavoro fatto su noi stessi è molto importante, però è molto più importante trasformare il nostro modello di business in maniera tale poi da portare ai clienti un elemento che li aiuta a ottenere i loro obiettivi di sostenibilità. E quindi abbiamo sviluppato due strumenti per quanto riguarda l'ambito del design e delle costruzioni che informano tutto il nostro modo di lavorare e tutto il design che facciamo per i clienti. Il primo si chiama Day Standard, Diversity, Equity and Inclusion ed è un framework che ci permette di realizzare degli spazi inclusivi, che non significa soltanto partendo dal genere, ma pensando anche ai temi di neurodiversità, i temi di diversità di età, i temi di diversità etnica e quindi andiamo a aiutare i clienti a realizzare degli spazi che siano inclusivi by design. Quindi tutti noi conosciamo, vediamo alcune realizzazioni dove abbiamo le scale di fianco alla rampa, questo è un modo vecchio di fare accessibilità anche per tutto quanto riguarda la disabilità fisica. Il modello nuovo e pienamente inclusivo è un design fin dall'inizio, una rampa stupenda dove sia le persone con disabilità fisica, sia noi stessi o chiunque nel momento in cui si rompe una gamba, c'è la pioggia e scivola, ai tacchi riescono a vivere quello spazio e quell'ambiente in maniera migliore. Perché non dimentichiamoci che comunque in Italia al di là di tutte queste diversità stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di persone che hanno una qualche forma di disabilità fisica e aiutare tutti, diciamo da questo punto di vista, credo è un passo avanti non solo per la società ma anche per le aziende che oggi non stanno sfruttando questo tipo di talenti, chiamiamo diversi. Certo, non lasciare nessuno indietro che dovrebbe essere poi la base di qualsiasi idea che sia sia politica o produttiva. Grazie a Barbara Cominelli per GLL Grazie a tutti.